spettacolando tv siamo qui sul palcoscenico del teatro salomberto e abbiamo francesco pannofino e manuela rossi che tra pochi minuti si può dire per i suoceri albanesi che è diventato un cult teatrale perché ormai quanti anni sono questo è il terzo anno il terzo anno il secondo anno che loro lo riproponiamo qui a roma siamo andati l'anno scorso in giro per tutta italia per quattro mesi su nord sud centro ovest est e quest'anno siamo di nuovo qui a grande richiesta e questo ci fa molto piacere e finito la sala umberto il 19 febbraio ripartiremo di nuovo per un altro mese e mezzo tu sei una giornalista ma lui è un consigliere comunale progressista io sì sono un politico diciamo che ha delle convinzioni di carattere progressista quindi predica l'accoglienza la solidarietà e l'aprirsi agli altri poi però accade che in famiglia arrivano due albanesi che devono aggiustare il bagno il più giovane dei due si innamora con risposto della nostra figliola ecco quindi dovete fare fronte a questo inconveniente io non so io io non sono una giornalista paola ah scusa no no non ti preoccupare io sono una giornalista beh lei potrebbe avere delle velità da giornalista in realtà lei ha un ristorante l'extra sensorial che è aperto questo ristorante e che si basa sulla cucina molecolare per cui ovviamente una donna alla moda emancipata progressista anche lei nel suo modo di essere di affrontare la vita è una donna progressista quindi va d'accordo con il marito diciamo con il consigliere sì assolutamente mi prendo in giro dall'inizio alla fine quindi no lo prendo come in tutte le copie naturalmente lui l'autore Gianni Clementi ha raccontato un po' quello che può essere il menage familiare della quotidianità di tutti i giorni noi raccontiamo la trama perché sennò poi dopo no no l'unica cosa che possiamo dire che che ci si diverte moltissimo perché è una storia che rispecchia un po' quella che potrebbe essere una situazione che poi scusa che potrebbe capitare a una famiglia normale è molto attuale molto 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 delle cose abbastanza sconvenienti si un po' sconvenienti poi che altro per una società conformista diciamo certo certo infatti l'autore ha voluto dare un messaggio ben preciso messaggio positivo però non diciamo neanche questo perché venite a vedere che messaggio esatto però voi siete anche coppia nella vita diceva questo è il tormentone me l'hanno detto tante volte però insomma andate d'accordo sulla scena e anche nella vita no nella vita per niente sulla scena sì in scena sì sulla vita no quindi stavo più tempo sulla scena che nella vita è meglio così credimi andate molto d'accordo sulla scena sì c'è un grandissimo affiatamento mi trovo molto bene qual è il pregio di francesco come attore ma guarda e non è piageria francesco come attore ha tantissimi a tantissimi pregi intanto è una persona oltre a essere un bravissimo attore bravissimo professionista è molto generoso e generoso con il pubblico è generoso con i suoi colleghi questo non è da tutti perché in genere i primi attori il capo comico tendono sempre non parlare ma questo è vero amore è una grande regola no mi sembra credo che più che altro sia un grande attestato di stima nei confronti di francesco ma lo dico con grande sincerità francesco qual è la migliore dote di ripeto a parte la professionalità e la bravura e poi anche mi trovo bene in scena con lei perché cioè i tempi comici innati cioè naturali si è brava quindi mi trovo bene capito sono tanti anni che lavoriamo insieme e quindi si crea anche una strana magia teatrale che soddisfa il pubblico e alle persone piace vederci insieme e quindi e noi lo facciamo volentieri senti mai in casa siete tutte e due doppiatori ma ogni tanto fate delle voci george cluny e michelle pfeiffer ci tiriamo i piatti i portageneri ci tiriamo a ver succede qualche volta di diracci i piatti no no il lavoro lo lasciamo a casa lo lasciamo fuori di casa guarda questo è un lapsus che qualche psichiatra potrebbe lavorarci no no assolutamente no programmi future programmi future manuola rossi oltre i socieri albanesi beh intanto sono impegnata in questa cosa probabilmente parlando sempre di teatro oltre a un mio progetto personale che non adesso è inutile dirlo ci potrebbe essere invece l'eventualità sempre teatralmente parlando di un ritorno dei suoceri albanesi per cui un diciamo così un seguito a questa storia che ha tanto appassionato tutto il pubblico poi tanto doppiaggio poi tanto doppiaggio anche televisione però perché tu spesso si 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 ultimamente ho fatto una fiction si chiamava come fai sbagli che parlava anche lì di una famiglia io ero una una redattrice ecco lì facevo la giornalista ed ero cattivissima poi insomma anche tanto doppiaggio vediamo insomma tu e francesco hai fatto se il tempo fosse un gambero poco tempo fa insomma venire al ruolo di max adesso i socieri albanesi e poi poi aiutate non lavoro sono rimasto disoccupato non ci crediamo adesso dove facciamo i soldi poi partiamo per la tournée e poi vediamo insomma ci sono tanti progetti come al solito se non sono ancora tutti è meglio non dirlo però saranno belle soluzioni noi ci vediamo qui fino al 19 febbraio teatro sala umberto i socieri albanesi la regia è di Claudio Boccaccini i colleghi li dico io allora francesco pannofino e manuela rossi eccoci qua poi andrea lolli silvia broggi maurizio pepe Filippo Laganà ed Elisabetta Clementi ci sono anche figli d'arte Filippo Laganà figlio di Rodolfo e Elisabetta che è la figlia dell'autore di Gianni Clementi al quale l'autore si è ispirato per scrivere questa commedia non per gli albanesi ma per altre cose piastra lisciamenti di capelli eccetera eccetera ciao spettacolando tv